Full immersion nell'agro nocerino sarnese per il Frosinone di Stellone in due settimane se la vedrà prima al San Francesco contro la Nocerina venerdì sera in anticipo e subito dopo l'impegno casalingo al Matusa contro la Paganese di Maurizzi. I Ciociari sperano di prendere il volo in classifica proprio grazie a questo doppio impegno campano prima di tre gare contro squadre toscane con un Carrus recuperato in cabina di regia anche se l'interessante giovane Paganini quasi certamente salterà quantomeno la sfida con i rossoneri. Spera di essere protagonista nelle due partite con Nocerina e Paganese l'attaccante è napoletano Purosango e Salvatore Aurelio giocatore che sta trovando meno spazio quest'anno ma che a Nocera potrebbe giocare dall'inizio e che vede il Frosinone tra le favorite per la vittoria finale del torneo. No è stata una buona partita fatta da tutti come anche dicevamo personalmente io ho giocato la prima partita a Catanzaro dopo al di là di Cagliari che aveva fatto degli spezzoni tra i tempi supplementari di 15 minuti però quello non conta. Ho fatto secondo me una buona partita anche se al primo tempo non mi riuscivano determinate cose perché come ha detto ripeto Matteo loro erano troppi indietro. Poi al secondo tempo ci siamo messi lì abbiamo fatto la palla più velocemente e speriamo bene poi io ripeto voi mi conoscete bene l'importante io ho detto sia importante che è vincere poi chi gioca chi non gioca io è indifferente per me è normale la gioia personale può sempre venire lo sapete. Come la penso io sulla carta lo sanno tutti la società ha attrezzato una squadra formidabile siamo tutti ipotetici titolari siamo tutti tutti bravi ragazzi forti. Secondo me se riusciamo a trovare altre cose nel senso altre piccolezze che ci possono rendere al top che secondo me non è che proprio siamo al top però ci devi mettere la firma di giocare 20 partite da medio e portare 3 punti a casa. Però secondo me il Frosinone è una squadra da battere anche se senti gli altri senti gli altri altra volta sentivo la partita la replica quando abbiamo giocato a Pisa il Frosinone è un organico forte è una squadra da battere lo pensano loro perché non lo dobbiamo pensare noi. Avversario della Paganese domenica sarà il Prato che come abbiamo anticipato ieri è l'unica squadra professionistica del calcio italiano non aver subito ancora gol si è messo dunque in mostra il giovane portiere Matteo Brunelli appena 18 anni un passato recente negli allievi del Milan e mister Esposito gli sta dando fiducia. Dalla sua però ha una difesa esperta davanti con calciatori che si conoscono bene già dall'anno scorso. Prato che non ha subito reti contro Aquila, Catanzaro, Barletta e Gubbio. Ecco le impressioni proprio di Brunelli ed Esposito su questo inaspettato record di inizio stagione. Mattia Brunelli ancora a zero, gol subiti dopo 360 minuti e davvero un bel traguardo che si allunga ulteriormente. Stiamo facendo bene in fase difensiva, non c'è che dire. Ora vediamo se riusciamo a trovare gol con più continuità per vedere se portiamo a casa qualche vittoria in più magari. Però abbiamo giocato bene il primo tempo, il secondo tempo un po' peggio, loro sono cresciuti, però dai va bene così per ora. Resta il dato positivo dello zero nella casella dei gol subiti, in particolare dato che esalta il portiere Brunelli che è l'unico ancora imbattuto dopo 360 minuti. No dai esalta una squadra perché al di là di Bruno che ha fatto anche oggi un paio di parati importanti, ma il portiere c'è per parare e soprattutto una squadra che ha un buon equilibrio. Non vogliamo andare a cercare dei gol degli zero per forza, nel senso in gol presi, ma vengono, li accettiamo. È un dato che a me non dispiace.